Per tutti ragazzi e benvenuti in questo nostro video Siamo qui per la semi finale del draft Andiamo subito a cercarci l'avversario Due vittorie, ci rimangono altre due partite E oggi faremo la semi finale Vediamo se riusciamo ad arrivare in finale Comunque Vi aspetto in partita E eccoci qua ragazzi, trovato l'avversario Pronto, pronto, vediamo che squadra Puttana Eva Il portiere non lo so Carvacal If, Pepe, Ramos Totti Tiago Silva Tots, Filipe Luis Cross Emot, ma sarebbe quello di Demone degli Europei Isco, Messi Tots, Neymar Totti, Ronaldo Tots Che squadra raga, 191 draft ha fatto questo 191 draft Sarà difficile batterlo Sarà difficile batterlo Andiamo noi Con un attimo di possesso palla Anche la difesa a 5 Quindi proprio sembra difensivo al massimo Giriamo Sarà una bella sfida questa Messi Messi si gira Messi si gira Messi si gira su Filipe Luis Messi si gira Punta verso il campo Filipe Luis torna benissimo E adesso attenzione alla sua ripartenza Neymar Prova le skill Krikoviak Non ci casca Serve ancora Messi Messi si accentra Fallo Fallo giusto Fallo giusto Fallo giusto Neymar Krikoviak Krikoviak 1-2 1-2 Noo Non ci è arrivato Krikoviak Gira verso Mascherano Subito verso Neymar Taglia verso il centro Neymar 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 1-0 Neymar Junior La portiamo subito in avanti Che inizio gara per noi Servito Neymar Neymar Miracolo Miracolo del portiere ragazzi Che ce l'avevamo fatto Servito Mascherano adesso Anticipato da Coso Attenzione alla scivolata pericolosa Attenzione alla ripartenza Ha messo Bale Krikoviak però Krikoviak Resiste Ha due cariche Prova il destro Messi Messi a giro Ancora Segno Sergio a segno Gli era rimasto un po' il pallone sotto Se no è Ronaldo 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 Proverà la gran botta Murato Attenzione ancora Occhio ragazzi Ma dominio nostro Neymar Neymar Vedete Ronny Ronny a giro 2-0 Ronny 2-0 Ronny Il capitano CR7 2-0 Al ventunesimo Mamma mia Guanfran In rapidità Messi Può partire Messi Però adesso c'è Marco Reus Che è anche lui Un velocista Messi però Disorienta Reus Messi Va sul sinistro Va sul sinistro La può mettere in mezzo Verso Neymar E' Ronaldo Dio L'ho vista dentro L'ha presa di Ronaldo Servito Messi Servito Messi Servito Messi E' rapidissimo Leo Messi Leo Messi Intercettato Durante Voglio fare gol Della merda Sono sincero Però mi ha intercettato All'ultimo Eccolo Mascherano Facciamo lo schema Tutti in mezzo Maxwell Chiama lo schema Il cross Verso Neymar Ancora calcio d'angolo Si è liberato bene Neymar Maxwell Stavolta crossa subito Mascherano Non aggancia Proverà Messi Traversa gol Al quarantacinquesimo 3 a 0 3 a 0 Traversa rete Traversa Sono curioso di vedere Vediamo Gol na gol Gol na gol Gol Servito Messi Messi servito Messi servito Entra in area Sergio Ramos Lo fermo Però Attenzione Recupera palla Krikoviok Sergio assegno Prende Una pallonata Una botta Attenzione Facciamo uno schemino Vede Marcello Marcello salta tutti Palla che rimane lì Punizione Ci prendiamo la punizione E da qui No Io da qui Non voglio Messi Io da qui voglio Neymar Junior Neymar Junior Da Silva Poi è Neymar Junior Lui mette l'uomo La proviamo Neymar Barriera Calcio ad angolo Calcio ad angolo Ancora nostra La buttiamo su Maxwell In mezzo Verso Ronnie Che salta più alto di tutti Come al solito Neymar 4 a 0 All'85 Discorso Strachiuso Strachiuso Bene ragazzi Concludo quel video Pollicione su Commentate Condividete E iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo video Bella Trovate tutti i social In descrizione Possiamo vincere Grandi Grazie a tutti Grazie a tutti